In queste ultime ore, la notizia della presunta morte di Milena Vukotic si è diffusa rapidamente sui social media. Numerosi articoli online hanno titolato in modo triste e allarmante, lasciando intendere che l'amata attrice ci avesse lasciato. Questa notizia ha generato una grande ondata di commenti da parte degli utenti e dei fan, che hanno voluto ricordare le indimenticabili interpretazioni di Vukotic. Tuttavia, nonostante il clamore che continua a crescere, non ci sono ufficialità né conferme su quanto riportato. La notizia della morte di Milena Vukotic è del tutto priva di fondamento. In realtà, l'attrice ha semplicemente annunciato la sua intenzione di prendere una temporanea pausa dal mondo del cinema. Desidera aspettare ruoli che ritenga più adatti a lei, senza però considerare questa decisione come un ritiro definitivo. Purtroppo, alcuni siti web hanno approfittato di questa situazione per ottenere click facili, diffondendo una notizia falsa e ingannevole. È importante fare attenzione alle fonti di informazione e verificare sempre le notizie prima di condividerle. La morte di Milena Vukotic è solo l'ennesima bufala propagata da coloro che non esitano a manipolare le emozioni del pubblico senza scrupoli. Speriamo che l'attrice possa presto tornare sullo schermo, continuando a regalarci la sua straordinaria arte e il suo talento indiscusso. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.